Commissario Simona De Luca dell'UPGSP, le volanti, quest'oggi insomma un incontro in questura dove ci sono state svelate queste due operazioni degli scorsi giorni. Una di queste due ha visto il sequestro di persona e danni di una ragazza minorenne che è stata trattenuta contro la sua volontà in un garage. Ci spiega meglio la dinamica dell'episodio? Sì, certo. Allora nella mattinata del 10 ottobre la nostra centrale operativa riceveva intorno alle ore 9.40 una segnalazione tramite 112, numero unico per le emergenze di questa ragazza che era stata vista in un momento di litigio con un altro giovane a seguito di questo litigio, era stata aggredita fisicamente e trascinata via con la forza. Le volanti venivano quindi immediatamente inviate nel luogo della segnalazione dove si appurava assumendo le informazioni dai presenti e dai genitori della ragazza che appunto la dinamica dei fatti così come descritta era veritiera e che era stata oltretutto la ragazza nella mattinata doveva recarsi sul posto di lavoro ed effettivamente non ci si era mai recata. I genitori avevano provato a contattare la minore ma senza successo in quanto il telefono risultava spento e quindi di fatto lei era irraggiungibile. Conseguentemente una volta accertata, ricostruiti i fatti così come descritti dai vicini e dai genitori venivano attivate i positioning sull'utenza della ragazza e dalla descrizione del giovane che l'aveva appunto aggredita gli operanti riuscivano a risalire ad un soggetto che era già noto a questi uffici. Conseguentemente si ricavava anche l'utenza di questo soggetto e si sottoponeva a positioning anche la sua. Entrambi i telefoni risultavano tuttavia irraggiungibili. Quindi l'attività di ricerca della minore e del suo aggressore continuava durante tutto il corso della mattinata e in particolare gli equipaggi venivano distribuiti sul territorio per effettuare una ricerca capillare setacciando tutta la zona, tutti i luoghi frequentati dalla minore e da questo giovane senza tuttavia avere successo. Nel contempo la madre e i genitori continuavano a cercare la ragazza nei pressi della propria abitazione e infatti intorno alle 12.30-12.40 ci giungeva una telefonata della madre che ci avvisava di aver ritrovato la figlia in un garage che era stato abusivamente occupato da questo giovane da qualche giorno perché si trattava di un soggetto senza fissa dimora che appunto viveva lì e quindi la madre riusciva a trovare il box all'interno del quale era rinchiusa la figlia nel momento in cui apriva la Claire scopriva lei il suo aggressore, aggressore che si dava alla fuga. Successivamente quindi la volante interveniva sul posto, individuava la ragazza che si mostrava visibilmente provata e riferiva comunque una dinamica dei fatti di questo tipo e riferiva di essere stata segregata all'interno di questo garage per tutto l'arco della mattinata e di essere stata aggredita sia verbalmente che fisicamente attraverso delle violenze fisiche da questa persona con la quale intratteneva una relazione sentimentale. Successivamente quindi venivano inviate le volanti sul territorio per individuare questo soggetto che effettivamente veniva trovato sul territorio in una parte opposta rispetto a quella dove erano venuti i fatti un paio d'ore dopo il ritrovamento della ragazza e quindi poi veniva sottoposto a fermo. Ecco l'episodio è successo in città, il giovane, un 22enne di nazionalità colombiana ma regolare sul territorio nazionale era già noto alle forze dell'ordine per un altro sequestro ed era stato denunciato a piede libero. Aveva sì dei precedenti di polizia specifici per un fatto analogo nei confronti di un'altra persona quindi non collegato strettamente a questo fatto in cui comunque si era verificato un episodio di rapina con contestuale sequestro di persona quindi c'erano dei precedenti di polizia specifici in relazione a questo soggetto. In ultimo avete utilizzato positioning che è una norma che avete definita salvavita nel senso che permette di tracciare le celle del telefono e se il telefono è spento di tracciare l'ultimo. Sì esatto e in gergo si chiama positioning salvavita comunque è uno strumento che ci consente di in situazioni emergenziali come quelle appunto di salvataggio di vite umane di individuare il luogo in cui è stata agganciata la cella da parte del telefono che è in uso alla persona quindi ad esempio se il telefono è acceso e questa persona si sposta si riescono ad individuare gli spostamenti del telefono e quindi la modifica delle celle agganciate invece se il telefono è spento si riesce ad individuare l'ultima cella agganciata con anche l'orario di aggancio di questa cella.